oh cosa sono capelli ogni tentativo è completamente inutile so perché sei qui e non ho affatto paura di te che cosa chi sei tu e come hai fatto a trovarmi chi sei tu e come hai fatto a trovarmi io non so chi tu sia ne so dirti come ho fatto a trovarti ma una piccola cosa posso dire ciao come andiamo io mi chiamo flin rider come procede la vita chi altri conosce il posto in cui mi trovo flin rider senti biondina rapunzel al fidersen ecco il fatto ero in una situazione e girellavo per la foresta mi sono imbattuto nella torre allora o no la mia borsa dov'è l'ho nascosta in un posto che non potrai mai scoprire dentro quel vaso vero l'ho nascosta in un posto che non potrai mai scoprire